Guardi, io sono contento che si sta trattando, almeno abbiamo un precedente insomma per il futuro. Allora, alla consigliera Menuni, questa amministrazione non solo sta seguendo la questione che ha portato all'attenzione dell'Assemblea, ma la sta seguendo da tempo. Ricordo addirittura che noi avevamo già incontrato più volte i cittadini e il presidente del consorzio per risolvere la questione e per capire i termini della questione, sin da quando io ero consigliere al quindicesimo municipio, prima che io venissi qua in Campidoglio. È una questione su cui anche il centrodestra ai tempi non è che abbia assolutamente risolto, anzi per alcuni versi ha anche complicato questa situazione, ma sia agli assessori al patrimonio che ai lavori pubblici, nonché al verde perché è una convenzione molto complessa su cui ci si sta coordinando. Noi stiamo già agendo in tal senso, anche se in fin dei conti proprio per la vetustità sia della convenzione che la particolare situazione dell'olgiata che sicuramente la consigliera conoscerà, fa sì che meriti dei necessari approfondimenti. Quindi ci asteremo a questa mozione e ci asteremo a questa mozione. Grazie.